Siamo in uno dei locali storici sulla riva destra che ora è interessata da alcuni lavori che mirano al congiungimento con la spiaggia di San Pietro, quindi si creerà un'ulteriore passeggiata. Cosa ne pensate voi? Si tratta del primo lotto di questi lavori che interesseranno la riva destra, speriamo, da 2024 per tutto il 2025. Noi siamo positivi, propositivi anche nel senso che andiamo a questo congiungimento tra via Porto, riva destra e la collina di San Pietro e quindi la parte di San Pietro perché spesso passano turisti e ci chiedono se la strada è chiusa, se possono continuare e a volte tornano indietro, quindi sicuramente questo congiungimento consentirà di allungare la passeggiata e anche da un punto di vista commerciale e economico sarà vantaggioso, quindi la vediamo con grande positività. Questi lavori permetteranno di riscoprire un nuovo paesaggio del nostro angolo, del nostro comune? Sì, sì, sicuramente, anche perché quello è un angolo del porto di Ischia meraviglioso, sicuramente anche meraviglioso perché guarda l'ingresso del porto, quindi un'area davvero di un fascino incredibile e questi lavori tra l'altro si stanno integrando con quella che è la zona di San Pietro della Collina che è molto tipica e caratteristica del porto di Ischia, infatti si tratta solo di una passeggiata di legno che percorrerà la parte della scogliera, quindi sarà unicamente pedonale con una passeggiata tranquilla e speriamo che le cose vadano al meglio e soprattutto che sia l'inizio poi di lavori importanti che interesseranno questa zona.